Musica Senza alcun dubbio ci si vede il 23 febbraio Vieni qui a te Il 23 febbraio lo vedrete a Gubbio Quindi ci si vede a Gubbio, lui per fortuna non c'è, ma io sì Così alcune settimane fa il conduttore comico Giorgio Panariello In compagnia dell'amico Carlo Conti, con la complicità del produttore Rai Paolo De Andreis Annunciava in anteprima proprio da TRG l'arrivo di un nuovo evento La prima edizione del premio Gubbio Dog Friend Promosso e organizzato dall'associazione Gubbio Soccorso Animali e Ambiente E a Tesu, impegnate nella solidarietà, nel sociale e nella difesa dell'ambiente e degli animali L'appuntamento è per sabato prossimo, 23 febbraio, a partire dalle 17.30 a Palazzo Pretorio dove non solo Panariello, ma tutti i premiati, si ritroveranno per questa prima edizione di una rassegna che ha la finalità di suscitare la maggiore sensibilizzazione possibile nei confronti degli animali e dei cani in particolare, con l'obiettivo di valorizzare azioni concrete di difesa e salvaguardia degli amici a quattro zampe, assegnando riconoscimento a persone o gruppi che a livello nazionale si impegnano in vari ambiti Indiscusso il valore del parterre che sarà protagonista sabato prossimo alla Sala Trecentesca del Comune in Piazza Grande a fare gli onori di casa sarà ovviamente il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati accanto ai promotori Enrico Mattiacci, responsabile per Gubbio Soccorso della nuova divisione dedicata agli amici a quattro zampe e Mario Franceschetti per l'associazione Atesu Noi teniamo tantissimo al nostro canile comprensoriale ci investiamo anche in maniera cospicua perché tra i 70 mila euro del Comune di Gubbio e le altre risorse messe a disposizione dagli altri comuni abbiamo un bilancio che si aggira intorno ai 90-100 mila euro ma al di là di questo abbiamo voluto costruire un rapporto molto virtuoso molto positivo con le associazioni e con i volontari perché da loro sono venuti tanti spunti, tante sollecitazioni anche critiche, se vogliamo anche conflitti dai quali però alla fine siamo riusciti a far scaturire importanti risultati sia per la struttura che è nettamente migliorata sotto tutti i punti di vista sia anche per l'attività di adozione perché nel corso di questo ultimo anno soprattutto sono state adottate decine e decine di cani e poi perché si è creato comunque un clima molto favorevole che ha dato origine anche a tante iniziative come quella che è stata presentata oggi e che quindi potranno produrre nel tempo una sempre più diffusa sensibilità nei confronti dei cani, degli animali e comunque di una serie di valori che fanno parte credo della nostra civiltà e rientrano anche in quella tradizione francescana in quell'umanesimo diciamo così francescano che è in quella spiritualità di cui Gubbio sicuramente è una delle città più depositarie e quindi più simboliche Tra i premiati ci sono personaggi del territorio ma anche personaggi di caratura nazionale per cui la consegna del premio sarà anche l'occasione per una serata in allegria diciamo Beh sì, diciamo su tutti c'è Panariello che come sappiamo è un personaggio del mondo dello spettacolo molto legato ai cani ha scritto anche dei libri interessanti su questo argomento quindi sicuramente lui ci aiuterà a dare anche grande forza mediatica e comunicativa a quest'operazione ma anche le altre persone che sono state individuate sicuramente rappresentano in vari ambiti della vita sia privata che pubblica anche delle istituzioni comunque quell'impegno che rappresenta anche una grande testimonianza e che diventa esemplare anche come atteggiamento da imitare e da riprodurre nella società Spicca su tutti dunque il nome delle popolari attore regista e showman Giorgio Panariello sostenitore di varie campagne a favore degli animali nonché autore di ben tre libri legati alle tematiche dei cani grande regista dell'operazione è stato Paolo De Andreis storico produttore televisivo Rai di programmi di successo amico di Gubbio da cui ha ricevuto anche riconoscimenti di amicizia e stima è sempre pronto a scendere in campo per favorire iniziative a vantaggio della città dove ha portato negli anni format di grande successo da domenica in a piacere Rai 1 fino alla serata di beneficenza per il Gaslini di Genova con la Juventus presenta al gran completo al teatro comunale in diretta su Rai 1 insieme ad Andreis sarà presente anche l'autore e conduttore televisivo Walter Santillo insieme a loro ci saranno però altri personaggi di primo piano nel loro campo il criminologo della polizia di stato Marco Strano impegnato tra l'altro nel contrasto dei crimini ai danni degli animali Francesca Toto che ha ideato il progetto Zero Cane in Canile nato nel comune di Viest nel 2011 realizzato dai volontari della Lega per la difesa del cane e Fabrizio Caira delle unità cinofile dei vigili del fuoco protagonista insieme al suo cane Apo nel salvataggio di vite umane in tante situazioni difficili e in circostanze drammatiche come da ultimo nel crodo del ponte di Genova e sarà proprio la comunità gubina legata alla memoria francescana dell'ammanzimento del lupo da parte di San Francesco ad insegnare per questa prima edizione del Gubbio Dog Friend testimonial di indiscusso carisma, fama e genuina disponibilità a fare dell'amicizia agli amici a quattro zampe un valore primario Grazie a tutti Grazie a tutti.